ok guys abbiamo una mezza pepsi bevuta perché ci serve un po dello spazio per il gas il gas e adesso vedete cosa faremo la cosa difficile sarebbe quella di metterci del gas dentro attraverso bisogna trovare un modo più figo raga per metterci del gas inutilmente l'abbiamo andato lì no perché dopo così la voglio usare sarà troppo grossa intanto pubblicità alla power della sepsi e alla nuke cola come vedete bella però la pericolosa c'è il viaggio su un dito ok siamo pronti ok Ahah Ahahahah 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 Rai Girovi per il tempo Nooo Ahahahah Mahche zah Non me lo aspettavo Sai, lui tocce dall'aria quindi se te apri, se te basta il tappato Ahahahah Dovevi lasciarlo semi chiuso grazie a tutti per aver guardato questo video iscrivetevi al canale, ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti